Ho sentito che Lord Nityananda Prabhu è Lord Balaram in Guna Lila, ma è anche Radarani. Puoi spiegare meglio questa cosa? In effetti, vi faccio un esempio. Mahapurusha e la sua signora. Cercate di capire. Loro sono molto felici, vivono insieme. Ascoltate, sto facendo un discorso serio, vi voglio portare a capire. Perché sono felici, perché si occupa di tutto. Un anno, due anni, tre anni, tre anni, tre anni. Perché lei si prende cura di Mahapurusha. Sono felici. Un anno, due anni, tre anni. Lei si prende cura. Però dopo un po'. Che succede? Però dopo un po', che succede? Alone, we are living in the home, no kids, no thing. E noi siamo qui, viviamo in casa, senza figli, senza niente. Capito? Quindi chi espande? Quindi chi espande? He alone expande or she expande? Lui spende o espande? Espande. Chi è che espande? Lui da solo o lei? Che spende. Expande. 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 E lei dice ok. E lei dice ok. I will I will I will I will I will Io svilupperò. So who's the major? Quindi chi è quello il maggiore? He is major or she is major? Chi è il maggiore, quello, insomma, il più importante, lui o lei? Lei è proprio la più importante. She said ok, I will expand this. E dice ok, espando. Espandiamo. So see what you say. Dice cosa dice. So similarly, Allo stesso modo, Krishna's antaranga Shakti is Radhika. Quindi la antaranga Shakti di Krishna è Radhika. Now Krishna wants to go out from Radhika. E quindi Krishna vuole uscire da Radharanga. How she will serve? Come fa lei a servirlo? She want to always to serve Krishna. Perché lei vuole sempre servire Krishna. E quindi è lei stessa che diventa la Bairanga Shakti di Krishna. È solo Radhika. È solo Radharanga. E questo è anche il Guru Tattva. La scienza del Guru. Guru is honestly expansion of Radhika. Dice onestamente, il Guru è un'espansione di Radharanga. Dice qual è il significato di scavare col piccone? Per fare il solco nella terra per metterci il seme. E questo è quello che fa Gurudeva. Cioè di zappettare la terra, arare la terra in modo poi da rendere la terra soffice e metterci il seme. Giusto? Ma lui è il fratello di Krishna. Nityananda è il fratello di Krishna e nella sua forma di mangiare è la sorella di Radharanga. Ananga Manjari. Quindi, quando uno parla di Krishna e lo porta ai piedi di loto di Radharanga. Perché? Perché senza la sua misericordia come fa uno a mettersi a fuoco su Krishna, fissarsi su Krishna? Se vuoi essere Krishna Conscious e devi prendere il rifugio di Radharanga. Quindi, se vuoi essere cosciente di Krishna e devi prendere il rifugio di Radharanga. Come fa lei. Si capisce? Quando vuoi capite, allora capite la bellezza di Nityananda. Tutte queste cose, le cose non viventi, tutto questo è Nityananda. E anche tutte le cose viventi sono Nityananda. La città è Nityananda. La città è Nityananda. L'Italia è Nityananda. Nityananda è da tutte le parti. E anche le persone che stanno a casa, nella città, anche quelle sono Nityananda. La casa è Nityananda. La casa è Nityananda. E le persone che stanno dentro la casa sono Nityananda. Tutto è Nityananda. Guru. Questa è l'espansione di Guru Deva. Questa è l'espansione di Guru Deva. Questa è l'espansione di Guru Deva. E se rendetevi conto com'è l'espansione di Guru Deva. L'espansione di Guru Deva è così grande che è ovunque. E quando ho i miei occhi, e quando ho accettato questo, vedo ogni posto, ogni posto, il mio Mastro spirituale. E quando accetterò questo, i miei occhi vedranno in tutti i posti, da tutte le parti, il mio Mastro spirituale. E un giorno, e un giorno vedrò anche Krishna. A causa di questa, la ragione è proprio questa visione divina. La comprensione divina. e allora entrerò nei divertimenti di Radha e Cristo. per volere di Dio. Nel modo divino. Questi sono i passi. E tutto è dovuto alla grazia di Nitai. Voi andate a Vrindavana. Voi andate a Vrindavana. Radha Rani dà il suo posto e lei è venuto all'interno a Giannava Maguswani. In Gopinath Tempio. Quindi al Tempio di Gopinath, Radha Rani ha dato lo spazio e si è messa accanto di Giannava Devi. Accanto a Giannava Devi. Ananaja Mangiari è molto importante. Quindi? Per arrivare a Radha Rani. Ananga Mangiari è molto importante. Noi siamo Rupa Nuga. Però... Rupa Goswami leader è Ananga Mangiari. Però chi è il leader di Rupa Goswami è Ananga Mangiari. Rada chiede sempre ad Ananga a mangiare e le chiede mi raccomandi questa persona si o no? giusto? andate a Radha Kunda e vedrete che c'è l'area e lo spazio di Janava Maga non c'è altro, ma se andate nel Krishna Kunda ci sono tanti spazi, posti eccetera. Grazie Grazie Grazie